Domenica 2 maggio, buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura, vediamo i dati Covid contenuti nell'ultimo bollettino diffuso ieri sera dall'Asra, a Ben Soluongo. 28 positivi su 454 tamponi processati e questo è il bilancio dell'emergenza sanitaria nel giorno del primo maggio in Molise, il tasso di positività è al 6,1%, nessuna vittima nelle ultime 24 ore, un solo ricovero, 57 guariti. Sul fronte degli ospedali 41 i pazienti ricoverati, 39 al Cardarelli, 2 al Gemelli in Molise, restano Covid Free, il Santimotio di Termoli e il Neuromed di Pozzilli, 7 i pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda i contagi nei comuni, 9 casi a Campobasso, 3 a Boiano e Castellino del Biferno, 2 a Termoli, Trivento e Santa Maria del Molise. Complessivamente gli attualmente positivi scendono a 618, i contagiati in Molise dall'inizio della pandemia sono 13.300, 12.191 i guariti, 478 le vittime. Sul fronte dei vaccini, anche nel giorno di festa, numeri elevati, 2.833 le dosi inoculate in 24 ore. Per quanto riguarda il numero complessivo, superata quota 120.000. Sono meravigliato che una proposta di un taglio dell'indennità in favore delle fasce in difficoltà della popolazione non sia stata appoggiata proprio dai 5 Stelle, lo ha detto il consigliere della Lega, Alberto Tramontano, dopo che appunto la sua proposta non è passata in Consiglio Comunale a Campobasso. Sentiamo Tonino Danese. La proposta presentata in Consiglio Comunale a Campobasso dalla Lega sulle indennità era stata appoggiata anche dal centro-sinistra. Proposta formulata per aiutare chi in questo particolare periodo è in difficoltà, che però non è passata. Grande meraviglia per il comportamento sul tema dei 5 Stelle, ha detto il consigliere leghista Alberto Tramontano. Abbiamo fatto una proposta dal nostro punto di vista che in questo momento storico doveva rappresentare un modello. Abbiamo detto al Consiglio Comunale, ciascuno, secondo le proprie possibilità, dia un segnale come rappresentante istituzionale, metta a disposizione una mensilità dei gettori di presenza, una mensilità dell'indennità del sindaco e degli assessori per finanziare un fondo di solidarietà per l'acquisto di buoni spesa per le famiglie indigenti, per le famiglie che stanno soffrendo il peso di una crisi ormai insostenibile. Peccato ha continuato Tramontano perché questa proposta, se approvata, avrebbe potuto costituire un modello da prendere in considerazione. La nostra meraviglia è stata grande quando abbiamo verificato che c'era l'assoluta indisponibilità del Movimento 5 Stelle a sostenere questa azione e quando addirittura sono stati anche mischiati piani personali, privati, con invece un ruolo istituzionale che va sempre riconosciuto. che il consigliere comunale, che naturalmente non fa parte della casta che riceve chissà quali monumenti, desse in questo momento un segnale di vicinanza alla propria comunità, era appunto un modello da poter replicare anche in altri ambiti istituzionali in cui davvero i costi della politica sono elevati. Quindi, diciamo così, con grandissimo rammarico abbiamo verificato che la nostra mozione è stata approvata soltanto dai colleghi del PD e della Sinistra per Campobasso e secondo noi è stata un'occasione persa per riconciliarci in qualche modo con la nostra comunità che ha della politica e dei rappresentanti istituzionali purtroppo un'idea non troppo elevata. Ed è partita dal Borgo di Termoli la zona traffico limitato. Il provvedimento è stato preso con largo anticipo della Giunta Roberti per favorire la ripresa delle attività commerciali e di ristorazione. Intanto la città si prepara ad accogliere il 18 maggio il Giro d'Italia. Manuela Iori. La necessità di far ripartire le attività commerciali penalizzate dalle chiusure per l'emergenza Covid ha spinto la Giunta Comunale di Termoli ad anticipare rispetto alla consuetudine la chiusura al traffico nel Borgo. La parte antica della città è infatti zona traffico limitato da ieri 1 maggio. Stop dunque ad accessi indiscriminati a parcheggi selvaggi nel cuore storico di Termoli dove i veicoli potranno accedere solo per carico e scarico di alimenti e bevande. Previsto l'ingresso per lasciare i bagagli solo in caso di prenotazione in una delle strutture ricettive del Borgo. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre ed è stato preso dall'Aggiunta Roberti per sostenere le attività commerciali in questo difficile momento sperando che l'arrivo della bella stagione possa risollevare economicamente le attività turistiche di ristorazione fortemente provate dalla pandemia. Intanto in città sale l'attesa per il Giro d'Italia che farà tappa a Termoli il prossimo 14 maggio. Lungo le strade sono già iniziati i lavori di messa a punto e rifacimento dell'asfalto e per questa straordinaria occasione di pubblicità per la città il Comune e in particolare l'assessore al turismo Michele Barile ha invitato le attività commerciali ad aderire all'iniziativa Vetrina in Rosa abbellendo gli ingressi dei negozi con coreografie che omaggino il Giro. L'invito è rivolto anche alle strutture ricettive dunque ad alberghi, affittacameri e B&B. Chiunque voglia farlo potrà inviare una fotografia della propria struttura addobbata all'indirizzo e-mail dell'ufficio stampa del Comune. Sarà creata una fotogallery con tutte le coreografie sulle pagine social del Comune di Termoli in particolare Facebook e Instagram. Le foto dovranno essere inviate entro il prossimo 12 maggio. È stata studiata dall'Istituto di ricerca Neuromed di Pozzili una nuova tecnica di indagine per la diagnosi precoce dell'Alzheimer. La texture analysis potrà identificare rapidamente nei pazienti in cui l'Alzheimer compare prima dei 65 anni. Barbara Fino Anche se viene considerata una patologia dell'età avanzata la malattia di Alzheimer può colpire persone relativamente giovani al di sotto dei 65 anni di età. In questi casi diventa ancora più importante avere una diagnosi precoce. Con questo obiettivo il Dipartimento di Fisica, Medica e Ingegneria dell'Istituto di ricerca Neuromed di Pozzili in collaborazione con la Wansong University di Wuhan in Cina e con l'Università di Roma a Tor Vergada ha realizzato una nuova tecnica di indagine automatica delle immagini PET. Il gruppo di ricercatori ha concentrato la sua attenzione sulle placche di beta-amiloide che si accumulano in determinate aree cerebrali. Il gruppo di ricercatori ha concentrato la sua attenzione sulle placche di beta-amiloide che si accumulano in determinate aree cerebrali. Un esame computerizzato ha permesso ai ricercatori di definire quattro caratteristiche principali capaci di distinguere in modo automatico l'Alzheimer precoce da quello che compare in età avanzata. Questa nuova capacità di analisi delle immagini PET, dice Nicola D'Ascenzo, professore del Dipartimento di Ingegneria Biomedica della Hust e responsabile del Dipartimento di Fisica Medica e di Ingegneria del Neuromed, ci consente di individuare le caratteristiche tipiche dell'Alzheimer in persone relativamente giovani. Questo potrà fornire ai neurologi uno strumento in più, un vero e proprio marcatore della malattia che li aiuterà nel diagnosticare più rapidamente la malattia in persone di età inferiore 65 anni, aiutando a distinguerla da altre patologie che possono avere gli stessi sintomi iniziali. Ed è tutto per la nostra informazione. Oggi non c'è la rassegna stampa perché non sono in edicola i giornali. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 14. Buona giornata e buona domenica. Grazie per l'attenzione,